Tra poco andrà meglio, solo un po' di pazienza. Abbiamo quasi fatto. Spogliatelo. Subito. Dottore, siamo pronti? Io non opero gli ebrei. Che cosa? Non opero gli ebrei. Impossibile. Questo bambino è polacco. Ho già pagato 100 Reismark per l'intervento. Signora, non intendo rischiare per un ragazzino ebreo. La prego, lo porti via. Dottore, le consiglio di ripensarci. Le conviene. Se ne pentirà. Ho buone conoscenze nelle SS. Molto bene. Che vengano a prenderselo. Allora, la prego. Non so quanto. Ho buone conoscenze. Ho buone conoscenze. Dove un po' di più. No.